Il primo appuntamento della Rete Bio è stato ospitato a Galeata il 30 aprile, con la tradizionale sagra dello stridolo. L'itinerario, organizzato dalla Proloco di Galeata, consiste in un viaggio mirato alla degustazione e alla cultura dei prodotti realizzati con lo stridolo. Una lunga camminata di due ore, che si conclude nell'area festa per il pranzo, dove è stato possibile degustare le tagliatelle, le lasagne. Hanno fatto da cornice alla festa numerose bancarelle con vari prodotti bio-romagnoli, come spezie di ogni genere, confetture di miele, vini e tanto altro. Grazie a tutti!